E' stata denunciata per oltraggio a pubblico ufficiale e interruzione di servizio pubblico una donna trentenne di origini serbe che, dopo aver trascorso la notte in un autobus, si era rifiutata di scendere dal mezzo. Erano stati inizialmente gli stessi dipendenti di SVT a sollecitare la donna giumiciliata a Creazza ad uscire dopo averla sorpresa addormentata nel bus parcheggiato all'autostazione verso le 6 del mattino. Visto il rifiuto alla violenta reazione della donna, il personale di servizio ha allertato i carabinieri. I militari della sezione radiomobile sono riusciti a far desistere la trentenne, ma espletando le procedure di rito sono stati ripetutamente ingiuriati ed offesi.